Ma quando torno a Padova In attesa dell'inaugurazione ufficiale, Padova Sport vi fa entrare nel nuovo stadio a piani. Lavori ormai agli sgoccioli, ecco la tribuna oggetto del completo restyling voluto e finanziato dai fratelli vecchiato della Interbrau. Potete vedere la disposizione dei seggiolini bianco-rossi che riprende la croce rossa in campo bianco dello stemma comunale della nostra città e l'installazione dei famosi pannelli votati dai tifosi via Facebook che sono stati posizionati in ordine cronologico a partire da quello che ritrae Silvio Appiani per finire nell'atto opposto della tribuna all'immagine di un giovanissimo Alex Del Piero. Le ingombranti grate che separavano gli spettatori dal terreno di gioco sono state poi eliminate in favore di questa lunga staccionata bianca al fianco della quale, ai piedi dei posti e sedere, è stato posizionato un tappeto in erba sintetica volto a dare continuità a quella del rettangolo di gioco mentre le panchine sono state posizionate dall'altro lato del campo, sotto la vecchia tribuna est. Infine, numerose sono le lastre di vetro che corredano alla nuova tribuna rigorosamente prodotte dalla Sunglass, l'azienda del presidente Bergamin. Nel complesso, un lavoro senza dubbio ben fatto. A voi le immagini.